Un progetto sperimentale che sostiene i malati e le loro famiglie. Il nuovo piano di assistenza domiciliare ai disabili, realizzato dal Comune di Bari, allinea il capoluogo pugliese alle realtà europee più avanzate. 76 malati affetti da gravi patologie saranno curati a domicilio per i prossimi due anni grazie al lavoro delle cooperative impegnate nel progetto. Il costo complessivo del servizio è di un milione e mezzo di euro. Sono già in funzione da ieri questo tipo di servizio grazie ad una gara che è stata avvenuta da alcune cooperative che adesso è un'espressione di un servizio pubblico e che prevederà quindi un'assistenza a casa della persona disabile e anche ammalata e povera. Credo che siano segnali importanti che una città capoluogo di regione si sta avviando ad un percorso di carattere europeo perché queste cose si fanno in alcune regioni del nord italiane ma in Europa. L'assistenza domiciliare garantisce ai malati una migliore qualità della vita. È vero che si porterà a domicilio del paziente disabile grave un'assistenza ma ci sarà anche un recupero di spesa nel senso che quel paziente verrà curato in casa sua e non in ospedale in un centro di accoglienza sociale dove le spese sono anche maggiori e potrà stare in casa con i suoi affetti, con i suoi parenti, con il suo letto, con il suo gabinetto, con quello che appresenta la vita quotidiana quindi avere quanto meno la conoscenza e la coscienza di avere il comune a casa sua insieme all'azienda sanitaria.